Ciao ragazzi sono Leotik e bentornati in questo nuovo video del canale in questo video andremo insieme a vedere dove possiamo trovare la nuovissima arma mitica e il nuovo boss segreto all'interno di Fortnite ma quindi per iniziare con il video come a temer voglio ricordare che se volete vincere skin o pass battaglia vi basterà iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche ma andate a questione, saluto con il video questo boss con questa nuovissima arma mitica è molto difficile da sconfiggere e si trova esattamente qua a Hydro 16 più precisamente in uno stanzino che troveremo nascosto all'interno di questa struttura nella zona verso nord-ovest infatti come vedete in questo caso Zig e Cioppi ve lo fa anche identificare esattamente nella versione rossa ma va benissimo lo stesso quindi perfetto anche essendo risa squadre posso farvelo vedere quindi andiamo qua sotto e come vedete esattamente qua dentro troveremo il nostro novissimo boss barra NPC infatti per ammazzarlo è molto difficile e ci serviranno tanti materiali proprio perché è il boss più forte che sia mai stato aggiunto all'interno di Fortnite quindi cerchiamo di arrivare a circa 300 materiali entriamo dentro possibilmente senza farci vedere mi raccomando attenti perché troverete all'interno anche uova e non poche quindi cercate di non farvi vedere la metraglietta è parecchio comoda eccolo là dovete non farvi vedere mi raccomando attenzione attenzione che questo qua come state vedendo è esattamente la sua arma mitica come vedete ha tanta vita ma davvero tantissima come vedete toglie un botto di danno quindi mi raccomando cercate di non farvi prendere attenzione che è forse l'NPC sì sì indubbiamente sono one shot perfetto perfetto come vedete l'abbiamo ammazzato quindi prendiamo qua questa qua è esattamente la sua arma mitica quindi proviamola subito quindi per provarla mi raccomando rechiamoci in un posto leggermente più tranquillo quindi proporrei di farlo esattamente qua accanto ad un distributore perfetto approfittiamone anche per parlare con Sloan un secondino a vedere cosa ha da dirci e infatti è nominato la sfida però funziona lo stesso come vedete qua miriamo ragazzi è davvero un'arma potentissima i colpi sono giustamente infiniti l'arma è mitica ha un milione di colpi il caricatore fa 12 di danno a ogni millisecondo e ci mette un secondo quasi due per ricaricarsi quindi mi raccomando ve la consiglio assolutamente perché è l'arma più forte per ora che abbiamo all'interno del gioco ovviamente dopo tutti gli spas che però non sono inclusi in questa lista quindi qui in dettaglio questo video oggi può terminare qua io spero che vi sia stato utile quindi detto questo ci vediamo al prossimo video con le prossime sfide all'interno di questo canale quindi mi raccomando ci vediamo insieme alla prossima